Ciao a tutti, io sono Chiara, vengo da Pagnacco, un piccolo paesino in provincia di Udine, in Friuli, Venezia, Giulia. Io ho conosciuto il dottor Giacconi nel 2011, in un periodo un po' buio della mia vita. Me l'ha presentata un'amica che aveva fatto con lui un percorso ed era stata molto felice, molto contenta e per me è stato lo stesso. Inoltre, durante questo percorso che stavo facendo con lui, mi è stato proposto di partecipare ad un seminario, che era in programma in quel periodo, un seminario di integrazione somatopsichica chiamato ISP. Ho deciso di frequentarlo e l'ISP ha letteralmente cambiato la mia vita. Attraverso delle semplicissime tecniche di respirazione ho potuto incontrare e conoscere degli aspetti di me che non conoscevo e che mi hanno potenziata, che sono stati fonte di felicità, di gioia e di benessere globale su tutti i piani della mia vita. L'ISP, dicevo, mi ha cambiato la vita, tanto da diventare origine e fonte del mio desiderio ed evoluzione personale. Infatti, proprio perché ho frequentato questo seminario, poi ho deciso di iscrivermi alla scuola di counseling naturopatico integrativo, di cui il dottor Giacconi è direttore didattico. Il primo anno, l'anno che si è appena concluso, è stato un anno ricco di esperienze meravigliose, che mi ha potuto permettere di conoscermi ancora più a fondo e di potenziare quello che è il mio lato luce e di essere sempre più felice, positiva e propositiva anche per gli altri, per portare benessere nella mia vita. Forse un giorno sarò un counselor, perché il mio desiderio è proprio quello di portare le altre persone a conoscere se stessi, perché possano avere la possibilità anche le altre persone di trovare la felicità, la positività e il benessere globale in tutti gli ambiti della loro vita. Infatti quest'anno il programma della scuola era anche la partecipazione ad un seminario che si chiama SUN, nel quale si entra un po' ad esplorare il proprio lato ombra, per portare alla luce il proprio lato luce. Sono stata molto felice di partecipare a questa settimana, a questa esperienza intensiva con altre persone che sono rimaste nel mio cuore come anime lucenti. Spero che ognuno si... e sto anche lavorando per questo, perché ognuno si possa dare la possibilità di conoscere questi strumenti semplicissimi e queste esperienze per portare luce, positività, energia e benessere globale nella propria vita. e vi auguro di poter incontrare queste persone e di poter fare questo tipo di esperienze con il cuore. Ciao!